Umberto Tozzi, Gloria 8 e 09, grazie a nostra bravissima Viola che ci dà tutte le coordinazioni per rientrare in studio perché non sono solo qui al mio fianco un doutour, c'è il dottore Giuseppe Iannone, buongiorno dottore buongiorno Fabio, buongiorno grazie di essere qui con noi, allora dottore psicoterapeuta, giusto? Quella è la parola giusta, ma io non ho mai capito che differenza è tra psicoterapeuta, psicologo, psichiatra Allora, lo psicologo è un laureato in psicologia, lo psicoterapeuta dopo la laurea in psicologia ha conseguito una specializzazione quadriennale in psicoterapia Ok, quindi faccio proprio la terapia giustamente, me lo dici anche la parola giusta, infatti con te Ok, perfetto, lo psichiatra invece fa altro, giusto? Lo psichiatra si occupa della cura farmacologica dei disturbi mentali Ok, quindi, non ne parliamo fuori onda, mi sembra molto bisogno di te Comunque, per parte questa battuta infelice, perché siamo qui con te Giuseppe? Perché, appunto, è inizio dell'anno, si fanno tutti i buoni propositi mi metto a dieta, inizio la palestra, cose che è impossibile fare, ve lo dico già non serve lo psicoterapeuta per capirlo, non fate queste cose perché vi portano solo poi a sentirvi fra tre mesi dei falliti e sensi di colpa che vi ammazzano perché non ce l'avete fatta ma ci sono invece delle cose che possiamo avere che vengono chiamate social skills, giusto? Sì, giusto Che sono delle capacità, diciamo Sì, sono delle abilità sociali che aiutano le persone a sia interagire con le altre persone ma interagire anche con se stessi perché il rapporto qui è duplice sia con gli altri ma anche con se stessi Ecco, tu ne hai individuate cinque con cui potremmo iniziare l'anno per capire se queste cinque ce le abbiamo vabbè, siamo dei fighi della Madonna come si dice? Facciamolo Come si dice? Siamo dei fighi della Madonna? In maniera tecnica come sarebbe? No, siamo centrati su noi stessi Siamo a piombo Siamo a piombo Ok, siamo centrati su noi stessi siamo a piombo Se non ce le abbiamo non scoraggiatevi perché c'è modo di svilupparle, giusto? Sì, le social skills possono essere acquisite Sì, è vero Ok, allora facciamo una cosa Diciamo solo i nomi di queste cinque social skills Poi, pian pianino appunto Giuseppe sta qui con noi Dottor Giuseppe Giannone sta qui con noi tutta la mattinata e ne prendiamo una per una e capiamo che cosa dovete fare per svilupparle e se ce li avete La prima c'è un nome che è stranissimo perché è Powerlessness Ok, quindi credo che abbia a che fare con la potenza ma un po' meno non so come dire la potenza è nulla senza controllo non credo sia quella roba lì Poi abbiamo l'accettazione poi il distacco questo fosse facile poi il stabilire i confini quindi stabilisci i confini e poi il fidarsi devi fidati di chi poi lo cerchiamo di capire Giuseppe però prima cambiamo un attimo allora tu hai veramente un percorso particolare per cui sei arrivato a fare lo psicoterapeuta e anche una motivazione abbastanza forte diciamo e quasi personale giusto? Ti va di raccontarcelo? Sì, certo, certo allora la scelta di studiare psicologia è arrivata a posto ma io in realtà ero già laureato Ah no era già morto e pensate quanto fa bene studiare non era questo fare suscitare i morti fare suscitare i morti studiate psicologia fare suscitare i morti no no tu facevi un altro percorso Sì, sì ero laureato in docenza della lingua italiana stranieri e mi trovavo a esercitare la professione ad Amsterdam nei Paesi Bassi e lì c'è stato il primo incontro con la psicologia è stato un incontro fortuito perché nell'istituto presso il quale insegnavo venne a tenere un seminario una psicologa la tematica era la psicologia dell'educazione e quel tema mi affascinò tantissimo mi affascinò a tal punto che mi ero ritrovato a leggere sempre più di psicologia e ad appassionarmi finché mi son detto va bene proviamo a farne una professione quindi ho fatto tutto l'iter scolastico universitario per conseguire la laurea e la specializzazione in psicologia e neuroscienze dopodiché ho iniziato con la scuola di psicoterapia ed eccomi qua Tu hai la specializzazione poi nel tuo campo? Cioè c'è un campo di specializzazione? Sì, mi occupo di disturbi d'ansia quindi le fobie, l'agorafobia claustrofobia, disturbo di panico ansia generalizzata disturbo d'ansia sociale e il secondo filone è quello delle disfunzioni sessuali nell'uomo e nella donna quindi anche la terapia di coppia rientra tra le mie Chiarissimo allora se siete curiosi di sapere quali sono le social skill che sarebbe meglio sviluppare o che magari invece già avete quindi anzi datevi una pacca sulla spalla in quel caso fa bene all'autostima rimanete con noi perché adesso è il momento dei call play ma poi torniamo qui con il dottor Giuseppe Iannone sempre qui a Good Morning Milano su Crystal Radio per parlare appunto di social skills e allora i call play let somebody go insieme a Selena Gomez call play let somebody go insieme a Selena Gomez piccola parentesi non c'entra niente guardatevi Holly Marder in the building con Selena Gomez che è davvero bellissimo così intanto qualche consiglio su qualcosa da fare dopo che avete ascoltato Good Morning Milano ve lo voglio dare e allora entriamo nel vivo insieme al dottor Giuseppe Iannone per quanto riguardano le social skills allora abbiamo detto non deprimetevi se non le avete si possono sviluppare giusto dottor sì ok allora la prima c'è un nome stranissimo perché è la powerlessness sì powerlessness rimanda a un concetto di capacità di non controllo che è qualcosa che spaventa tante persone specialmente oggigiorno c'è la tendenza a voler controllare tutto no a volersi non solo occupare delle cose ma addirittura di preoccuparsi quindi c'è una volontà di controllo sugli eventi sulle persone sul futuro in generale e questo si associa ovviamente a un'elevazione anche dei livelli di ansia perché perché la vita spesso ci sfugge di mano quindi il concetto della powerlessness invita a fare il contrario non è possibile controllare non è possibile prevedere tutto nella vita e va bene così mi viene da dire perché non ce n'è bisogno in realtà questo è l'incubo l'incapacità di avere un controllo sulla vita è l'incubo di tante persone che soffrono di due patologie in particolare la prima è il disturbo d'ansia generalizzato e la seconda è il disturbo ossessivo-compulsivo disturbo ossessivo-compulsivo le persone sono spesso super preoccupate nel voler esercitare un controllo su tutto ciò che le circondano mentre appunto la social skill della powerlessness tu dicevi bene le social skill possono essere coltivate quindi anche se è qualcosa che noi non abbiamo non vuol dire che noi non possiamo svilupparle vanno immaginate come dei muscoli in effetti con il giusto training con la giusta consapevolezza è possibile allenarle ovviamente si tratta di fare un allenamento costante proprio come succede con i muscoli però abituarsi a lasciare andare le cose è un ottimo esercizio per capire cosa per capire che se le cose vanno bene non dipende sempre tutto da noi ma a volte anche la vita a darci una mano nel bene e nel male già non è sempre colpa o anche merito merito de merito nostro esatto e quindi per svilupparla un po' di più come facciamo a lasciare un po' il famoso smollati un attimo ma io direi cominciare dalle piccole cose cominciare a lasciare andare le cose non troppo importanti nella vita questo significa caricare un peso molto molto basso diverso il caso del dover del voler smettere di controllare cose invece importanti lì il livello di difficoltà si alza però se noi cominciamo dalle piccole piccolissime cose davvero ci accorgiamo che è un esercizio che ci ridà energia ci ridà energia perché perché controllare sempre tutto provoca un affaticamento anche del sistema nervoso centrale il lasciare andare invece significa come dicevi tu prima mollare un po' la presa appoggiare questo peso a terra e quindi io vi dico fatelo io su questo io ho tutto il controllo a Viola di là nella redazione regia fa tutto lei io grazie Viola sei la mia ricetta della powerness grazie grazie Viola te veri bene va bene andiamo con un po' di musica e poi torniamo con la seconda social skills vi do l'anteprima che è l'accettazione e qui già invece insomma è ancora più complicato mi sa Gaia con Tokyo 8.24 minuti Cristian Radio Good Morning Milano e siamo qui con il dottore Giuseppe Iannone a parlare di social skills le capacità che dovreste avere o potete sviluppare per vivere meglio la vostra vita anche in mezzo agli altri mi viene da dire la numero due dopo aver parlato di powerlessness cioè la capacità di lasciare andare un po' cioè di non avere tutto questo controllo la seconda è l'accettazione invece che cos'è? L'accettazione viene spesso confusa con un altro concetto che è quello della tolleranza accettare non significa necessariamente tollerare tutto ma significa smettere di sprecare sia tempo che energie desiderando che eventi e persone siano diversi da quello che in realtà sono posso dire fa un po' il paio con l'aspettativa anche noi abbiamo aspettative altissime su alcune persone poi ci rimaniamo male ma è sempre l'aspettativa sì ci restiamo male perché non coincidono con l'idea che noi ci siamo fatti di una persona è vero questo succede per esempio anche nelle relazioni amorose conosciamo qualcuno e addirittura prima di conoscerlo bene abbiamo già un'idea spesso idealizzata nelle prime fasi dell'innamoramento di come questa persona è agli occhi nostri idea che però non coincide con la realtà delle cose tant'è vero che poi la delusione è dietro l'angolo se l'aspettativa è alta se l'aspettativa irrealistica idealizzata è altra e a quel punto è molto facile passare ad una fase invece di svalutazione dell'altra persona accettazione e volontà di controllo sono sorelle in realtà perché perché se io voglio esercitare un controllo sulle persone sugli eventi farò fatica ad accettare che invece le persone e gli eventi possano essere diversi da come io invece me li sono immaginato quindi praticare l'accettazione significa davvero basta con lo spreco e di tempo e di energie per volere che sia il mondo appiegarsi al nostro volere e ok allora riteniamo con la pace di Martino sesso e architettura massimo pericolo le cose cambiano e se anche voi volete cambiare o magari migliorare perché no seguire i consigli del dottor Giuseppe Iannone siamo arrivati al numero tre il distacco il distacco distacco significa imparare a separarsi dalle azioni dalle emozioni dalle reazioni dai pensieri dalle credenze delle altre persone non tutto infatti merita una reazione e dobbiamo essere bravi a scegliere bene quali battaglie dobbiamo combattere questo è un problema per tante persone tante persone non riescono a dare una dimensione di profondità agli eventi che vivono e reagiscono allo stesso modo esempio una cosa da nulla è in grado di mandarmi su tutte le furie proprio tanto quanto una cosa invece importante l'abilità la social skill del distacco invece è un'abilità attraverso la quale noi possiamo imparare a dare il giusto peso specifico agli eventi che ci succedono non è un invito a essere apatici abulici ma è un invito a considerare davvero il peso specifico degli eventi alcune persone tendono a combattere qualsiasi battaglia quasi fosse la battaglia della loro vita e questo si traduce in un grandissimo spreco di tempo di energie e di risorse che invece possono e dovrebbero essere dedicati ad altri l'arte del distacco consiste appunto in questa sorta di ricalibratura degli eventi e aggiungere una dimensione appunto di di profondità a quello che ci succede se volete fare qualche domanda comunque al dottor Giuseppe Iannone noi siamo qua è 33178 53555 infatti Erika ci sta scrivendo ci ha scritto un whatsapp e commenta le prime tre che abbiamo detto allora dice grazie al dottor Iannone allora la prima devo migliorare la prima diciamo era la power ok poi dice la seconda la citazione beh ci sto lavorando abbastanza bene anche il distacco ha su quello ce l'ho e ce l'ho tanto ecco magari non esageriamo però non troppo distacco non troppo distacco il giusto distacco ok 33178 53555 il numero di whatsapp come te scrive ci farei anche domande o dirci se voi queste social skills le avete non le avete le state sviluppando le state come dicevi coltivando coltivando sì esercitando coltivando dobbiamo innaffiarle tutti i giorni ogni giorno ogni giorno ogni giorno vanno innaffiate per cercare di diventare un po' meglio di quello schifo no scherzo no 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 siete bellissimi anzi siete il nostro pubblico siete il pubblico del miglior morning show della storia della radiofonia milanese quindi insomma come potete non essere un pubblico fantastico siete un pubblico bellissimi come direbbe qualcuno comunque andiamo avanti con la musica Calcutta due minuti anche se dura un po' di più ma ci piacciono tutti quanti i tre minuti e mezzo di questa bellissima canzone di Calcutta e poi torniamo qui con il dottor Giuseppe Iannone abbiamo la 4 e la 5 non sono le buste di un concorso a premi ma sono le social skills che dovreste avere o meglio cercare di sviluppare e poi vediamo appunto quali saranno adesso andiamo avanti Calcutta due minuti e tanti applausi per Calcutta ma anche applausi per il nostro dottore dottor Giuseppe Iannone che è qui con noi e ci sta aiutando a comprendere meglio le cosiddette social skills voi le avete non le avete beh scopritelo insieme a noi e soprattutto poi se avete bisogno di capire come fare da sviluppare meglio beh il dottore è qua quindi 331 7853555 grazie anche a chi ci sta scrivendo appunto che ci racconta un po' come sta andando il suo percorso personale con le social skills se volete potete scrivere anche in anonimo non faccio nomi non faccio cognomi va bene ok a proposito di nomi e cognomi dr.Giuseppe Iannone è il tuo profilo Instagram da cui appunto abbiamo preso queste 5 social skills ma ci sono tanti altri consigli che quasi giornalmente dai giusto? molto molto ben curato complimenti grazie fai complimenti al tuo social media manager ah me li faccio da solo grazie ah non c'è bravo meglio così bravissimo bravissimo meglio così andiamo con lo numero 4 che sono tu hai scritto stabilisci confini stabilire confini sì la capacità di stabilire confini i confini servono a proteggerci e permettono di scegliere come rispondere a ciò che gli altri fanno non significa avere una pretesa di dire agli altri cosa possono fare o cosa non possono fare stabilire un confine significa dare delle indicazioni chiare alle altre persone di quello che noi vogliamo desideriamo non vogliamo non desideriamo dobbiamo immaginarli come dei cartelli stradali che aiutano le persone a guidare a navigare a non oltrepassare i nostri limiti proprio come noi quando usciamo di casa chiudiamo portala chiudiamo a chiave per evitare che qualcuno possa entrare in casa nostra senza il nostro volere la stessa cosa va fatta nelle nostre vite spesso le persone entrano nelle nostre vite si dice no con i piedi sporchi e si puliscono lì oppure buttano su di noi i loro dispiaceri le loro emozioni negative le loro frustrazioni eccetera ecco noi abbiamo sempre un certo grado questa volta sì di controllo su quanto e quando far entrare le persone nella nostra vita come si fa però a farlo senza figurare scortesi o senza essere madonna come sei chiuso mamma mia certo questo ha a che fare con un altro concetto che poi se vogliamo è un'altra abilità da sviluppare che è quella dell'assertività assertività significa io considero rispetto il tuo bisogno per esempio di sfogarti ma considero rispetto anche il mio bisogno per esempio che ho di non poterti ascoltare in questo momento esempio arriva l'amico ha bisogno di sfogarsi perché si è mollato con la tipa ma mi trova in un momento brutto perché sono occupato o altro da fare ovviamente io riconosco che l'amico ha bisogno di uno sfogo ma riconosco che in quel momento non sono in grado di aiutarlo quindi è una situazione in cui si vince in due a pensarci bene perché non significa no non ho voglia di ascoltarti non ho voglia di sentire le tue storie significa solamente adesso no adesso non posso rimandiamolo ad un secondo momento ecco questa è l'idea dello stabilire un confine ed ecco e questa quindi era la quarta social skills che possiamo sviluppare o che dovremmo avere per vivere diciamo al meglio le nostre vivite stabilire dei confini e adesso Giussi Ferreri giussi Ferreri insieme a Takachi e Ketra Takachi e Ketra scusate Takagi e Ketra non ce la farò mai Viola non riesco proprio a dirlo va bene se quindi non siete di dislessici come me è meglio nel caso comunque anche a quello ci sono dei rimedi e non è un problema anzi non siatene non vergognatevi di questo ma parliamo delle nostre social skills parliamo delle social skills che dobbiamo avere quinta social skills fidati fidati è la capacità di fidarsi di chi innanzitutto di se stessi delle proprie capacità spesso di fronte ad un male ad una sofferenza qualsiasi siamo portati ad un atteggiamento di sfiducia nei nostri confronti e invece ci accorgiamo che a fine tempesta siamo usciti dalla tempesta addirittura più forti il male a volte ha la capacità di spremere il meglio che c'è in noi tante capacità tante abilità le sviluppiamo proprio a partire ad una condizione di sofferenza quindi avere fiducia nelle proprie capacità è importante in secondo luogo sapersi fidare anche degli altri e oggigiorno questo è un atteggiamento diffuso quello della sfiducia l'altro è visto come un nemico come qualcuno da cui proteggersi in realtà non è così se ci accorgiamo che di fronte a noi ci sono delle persone come noi che vivono i loro momenti positivi negativi è più facile entrare in contatto in un contatto solidale con le altre persone e infine fidarsi anche del mondo della vita perché è vero il male esiste ma c'è anche tanto bene là fuori il male spesso ci sviluppa però non esisterebbero la metà dei cantautori se non ci fosse De Gregoria Ligabue eccetera se non ci fosse quel travaglio interno che c'è in molti di noi non esisterebbero i grandi artisti ma insomma cerchiamo non tutti siamo grandi artisti quindi non cercate per forza di avere il travaglio dentro per riuscire a esprimere no si può anzi vivere in maniera più serena grazie a queste social skills cinque sono e cinque sono diciamo quelle più importanti dobbiamo dicervi appunto coltivarle ogni giorno innaffiarle come possiamo fare per ogni giorno a non perdere il filo a non ricascarci dentro oppure se ci ricaschiamo come possiamo fare se ci ricaschiamo poco male importante è restare sempre con un occhio su noi stessi e un occhio sugli altri quindi avere consapevolezza di quelle che sono le nostre azioni ma anche di quello che sono i nostri pensieri di quelle che sono le nostre emozioni ad esempio con la psicoterapia è facile lavorare appunto per potenziare migliorare le social skill psicoterapia è una parola che sentiamo parlare spesso adesso finalmente ci si va senza problemi o c'è ancora un po' questo stigma questa idea del no ma tanto a me passo in termini lo strizza cervelli non mi serve queste cose qua sì no no per fortuna il vento sta cambiando nel senso che il covid ha funto da catalizzatore covid e lockdown hanno funto da catalizzatore e hanno di fatto poi aperto la psicoterapia a tutti oramai quindi quel fenomeno che vedevamo negli stati uniti per esempio dove andare dallo psicologo e addirittura di moda la stessa cosa sta succedendo anche in italia e questa è una fortuna perché occuparci della salute mentale è un must oggigiorno ecco perché fa parte proprio del benessere poi di tutti di tutti noi insomma e poi posso dirvi è anche meno faticoso che andare in palestra oh sì quando uscite non lo so a volte ho visto uscire gente in lacrime che manco se avessero sterminato la famiglia però dopo diciamo è più facile di recuperare e fa molto bene fa molto bene ne vale la pena ne vale la pena e poi non fate la figura con quelli che vengono in palestra con voi che a un certo punto non vi vedono più e dicono ma com'è che Fabio non viene più in palestra ora sempre qua a farsi le foto davanti allo specchio con le magliette simpatiche e invece non c'è più quindi anzi così riuscite anche a lavorare meglio su voi stessi men sana in corpo e sano Foo Fighters con The Glass 8 e 54 minuti siamo quasi arrivati alla fine e quindi dobbiamo salutare il nostro ospite di oggi grazie mille al dottor Giuseppe Iannone grazie a voi per l'invito coordinate per sapere di più su di te seguirti sapere dove sei cosa fai seguire i tuoi profili sito web www.giuseppeianone.it oppure la pagina instagram dr.giuseppeianone c'è tutto c'è anche sul numero di telefono a cui potete poi chiamare per prendere nel caso appuntamenti se vogliate andare a raccontare un po' le vostre a scoprire se avete o no queste social skills a raccontare le vostre perplessità al dottore o magari a capire come vivere al meglio certe situazioni che magari vi mettono un po' a disagio ricordiamo che sei specializzato soprattutto in ansia e gestione del panico che insomma è una questione che per molti è complicata e quindi ben venga se insomma trovate una soluzione magari vi abbiamo dato una mano anche lo di Good Morning Milano ma che bello dai Giuseppe Iannone grazie mille al dottore grazie a voi noi ci risentiamo domani ma non prima della nostra sigla grazie a tutti